Ciao a tutti, in questo video voglio proporre una meditazione per sbloccarsi emotivamente. Prima di passare alla meditazione però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mettiti in una posizione comoda, seduto con la schiena eretta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate, oppure se preferisci puoi metterti sdraiato con le braccia lungo i fianchi ed i palmi delle mani e rivolti verso l'alto. Scegli tu la posizione che preferisci. E mentre ascolti il suono della mia voce e il respiri, porta la tua attenzione sul respiro, sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni. E via via che respiri tranquillamente puoi sentire il tuo corpo diventare via via più pesante. Ad ogni ispirazione puoi lasciare andare tranquillamente e rilassare ogni muscolo del tuo corpo. Mentre continui ad ascoltarmi, non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando, che ad ogni ispirazione diventi sempre più rilassata, più rilassato. E mentre mi ascolti e ascolti il suono della mia voce e respiri tranquillamente, iniziamo un viaggio. Perché le emozioni ti tengono bloccata, ti impediscono di vivere l'amore, ti impediscono di vivere la passione e ti fanno perdere ciò che di più importante c'è nella vita, la possibilità di sperimentare l'amore e la passione. E allora inizia questo viaggio all'interno di te stessa, all'interno di te stesso, fino ad arrivare in quel luogo, in quel porto sicuro che si trova al tuo interno, in quella zona dove ci sono i nostri pensieri più puri, le nostre emozioni più forti, le emozioni bloccate. Entra dentro alle tue emozioni e guardale. Guarda l'emozione dell'amore, guarda l'emozione della passione, guardale. E guarda quello che ti stai perdendo in questo momento. queste emozioni se non riesci a sbloccarle si trasformeranno nel contrario. E allora questa volta ce la devi fare, questa volta è la volta buona, ce la devi fare. lascia che dentro di te, ad ogni ispirazione, inizia a entrare l'energia dell'amore, inizia a entrare l'energia dell'entusiasmo. Entusiasmo ed amore entrano dentro di te, penetrano dentro ogni cellula del tuo corpo. E adesso devi fare una cosa molto importante. Adesso devi lasciare che queste emozioni possano circolare liberamente. Devi farlo. Devi fare un atto di coraggio, un atto molto importante. Devi prendere un impegno con te stessa, un impegno con te stesso. L'impegno di sperimentare sperimentare e di vivere a pieno le tue emozioni, di sbloccare tutto ciò che è di bloccato è dentro di te. Tu ce la puoi fare. Devi però avere semplicemente l'intenzione e prendere l'impegno. Se tu prendi un impegno e hai l'intenzione, l'universo ti manderà le situazioni, l'universo ti manderà le persone, l'universo ti darà le opportunità di viverti delle emozioni. Devi soltanto lasciarti andare. Devi soltanto essere disponibile a viverti ciò che è di più importante c'è dentro di te, perché le emozioni sono già dentro di te. Devi solo permettergli di venire fuori. Permettigli di venire fuori e di provarle, di sentirle, di viverle e provare già una gioia. Inizia ad anticipare gli eventi, inizia già a provare adesso la gioia che sperimenti quando ti lascerai andare e vivrai una forte emozione o una forte passione. Un amore è una passione. Inizia a vivertela in questo momento. inizia ad assaporartela in questo momento e quando tra poco aprirai gli occhi non vedrai l'ora che di realizzare questa emozione, tu puoi farcela. Basta che ti lasci andare. Basta che prendi un impegno con te stessa, un impegno con te stesso, l'impegno di viverti un'emozione, di viverti un'emozione forte e nel momento in cui vivrai la prima emozione come un effetto domino si sbloccheranno tutte le altre e niente e nessuno ti potrà più impedire di avere una vita emotivamente appagante. E adesso, mentre mi ascolti e continui ad ascoltare il suono della mia voce, torna al qui ed ora, al tempo presente e riporta l'attenzione sul respiro consapevole che quando aprirai gli occhi farai qualcosa di veramente importante per te, qualcosa che andrà nella direzione della tua felicità, del tuo benessere e ti renderà una persona migliore, una persona che avrà successo in tutti gli ambiti della vita in cui vuole avere successo. Basta sbloccare l'emozione, basta rispettare l'impegno preso. Bene, adesso fai tre respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti e poi espirandola fuori fino in fondo con la bocca e al termine di questi tre respiri profondi puoi muovere le braccia, le mani, le gambe e per finire apri dolcemente gli occhi. Bene, pratica questa meditazione almeno una volta al giorno meglio se riesci a farla due e per questo video è tutto iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto e il link è in descrizione. Ciao a tutti! Grazie a tutti!